Ben ritrovati qui nella nostra rubrica si può fare, si può fare perché lo sapete ormai si può comunicare ai bambini delle cose più o meno difficili, più o meno scomode con i modi e gli strumenti giusti. Io uso i libri, li uso come madre e li uso come professionista perché mi permette attraverso la storia, la favola, la fiaba di entrare in contatto con dei pensieri e con delle emozioni. Molto spesso è più facile far parlare i personaggi e quindi i bambini poi raccontano di sé. Allora oggi voglio parlarvi di questo tema, l'abbraccio. L'abbraccio ci sarebbe una lunga disquisizione da un punto di vista del significato dell'abbraccio per quello che ci racconta la neuroscienza. Noi sappiamo che bastano pochissimi secondi per mettere in circolo delle endorfine tale per esempio da calmare un bambino molto arrabbiato. Durante il travaglio quanto permette il tocco e l'abbraccio di poter dare alla donna una minima sensazione di contenimento e di pace. E così gli studi ci raccontano. Molto spesso nella mia esperienza tanto più un bambino è arrabbiato in una situazione di difficile contenimento, non soltanto anche fisico ma anche emotivo, tanto più l'adulto fa fatica a contenerlo da un punto di vista fisico perché quel determinato comportamento ci muove noi altre cose molto spesso sulla stessa onda. Non riuscendo quindi a fare una distensione e molto spesso alimentando poi il circolo non virtuoso ma malefico. E quindi arrivate a dire non riesco più a contenerlo, urlo, c'è rabbia. Questo libro ci dice per di prima a noi adulti la potenza nell'abbraccio per poter calmarci e calmare per poi risistemare tutto il resto. Vi ho già fatto vedere un libro di Jimmy Yao. Io la ho adoro. Ci sono alcuni libri che non tratto in questa rubrica perché non consoni ma andrebbero comprati tutti e messi in una galleria d'arte. è un illustratore a livello internazionale, è laureato in arti figurative e design e ha una carriera soltanto, scusate, per, volevo dire, la capacità di raccontare attraverso delle immagini più di tantissime parole. Infatti vedrete che le parole sono sempre poche ma ci sono dei disegni strepitosi. Leggetelo, leggetelo perché questo leoncino prima non sapeva della potenza dell'abbraccio e non sapeva che bene faceva a sé e alle persone che, in questo caso agli animali, ai quali poi lo ha donato. Perché molto spesso l'abbraccio è di natura istintiva e molto spesso lo diamo perché parlo per me, prima di tutto ne ho bisogno io. Ed è una potenza enorme, è una potenza enorme perché i bambini ai quali l'ho detto, mentre raccontavano delle storie immaginate, guarda, partendo da queste immagini, mi hanno tutti proprio detto, quando io sono nelle braccia del papà o della mamma, è il posto migliore nel mondo in cui io posso stare. E quindi se noi ce l'abbiamo ben presente, anche in quei cinque minuti in cui effettivamente vorremmo strangolarli perché la rabbia che ci suscitano e a volte l'impotenza che sentiamo nell'affrontare quella situazione, partire da un abbraccio può essere proprio l'inizio del countdown. Se vi va di raccontarci qui la vostra esperienza, noi vi ascoltiamo e vi leggiamo volentieri e per qualsiasi altra news e buon libro ci vediamo prossimamente. A presto, ciao da Sabrina Ritorto, ciao!